Come cambiano i capelli durante la menopausa e quali sono le novità anche terapeutiche in questo ambito? Lo abbiamo chiesto al professor Fabio Rinaldi che abbiamo incontrato al congresso Dermocosm che si è tenuto a Milano in occasione della Milano Beauty Week 2023, la settimana milanese dedicata alla salute e al benessere. Professor Rinaldi, come cambiano i capelli nell'arco di una vita di una donna, in particolare in menopausa? I capelli nella menopausa cambiano tantissimo nella donna perché l'equilibrio soprattutto degli ormoni estrogeni e androgeni è proprio come equilibrio e la carenza degli estrogeni in particolare porta a una serie di modificazioni come in tutto il corpo e quindi alla pelle e ai capelli. I bulbi tendono a essere meno attivi, la fase anagen si riduce moltissimo quindi la lunghezza del fusto rallenta tantissimo, è raro trovare donne anziane o dopo la menopausa con capelli lunghi che si possano crescere tanto, sicuramente cambia la struttura del fusto quindi i capelli diventano più miniaturizzati che è il segno di patologia e alla lunga questa sofferenza del bulbo porta alla caduta più o meno definitiva quindi anche a un diradamento dei capelli esistenti. Lei qui oggi a questo congresso ha presentato uno studio che ha mostrato dei dati nuovi, dei interessanti, ce ne parla? Abbiamo pubblicato questo studio perché abbiamo visto che ci sono delle situazioni cliniche dove donne assolutamente lontane dalla menopausa quindi in una fascia di età fertile dai 30 ai 40 anni presentavano delle sintomatologie che non erano ben inquadrabili né in un'alopecia androgenetica femminile tipica insomma nelle forme di female hair loss né di alopecia reate di altre patologie ma sembrava quasi come se fosse quella tipica situazione meno pausale tipica del post menopausa. Tra l'altro erano tutte donne assolutamente sane molte in terapia anticoncezionale quindi comunque con livelli ormonali o normali o in terapia anticoncezionale quindi estroprogestenici normali che però manifestavano questa situazione del bulbo e clinica particolare. Allora c'è venuto il dubbio che ci fosse un problema abbiamo fatto l'esame istologico in questi soggetti dello studio che abbiamo fatto chiaramente per valutare esattamente che quella fosse la patologia quindi non fossero altre patologie e allora poi siamo andati a cercare vista la situazione generale clinica se c'era qualcosa a livello del bulbo di strano e in effetti abbiamo trovato che la risposta recettoriale degli ormoni soprattutto estrogene c'era molto bassa quindi la presenza dei recettori c'era ma l'utilizzo degli estrogeni da parte recettoriale a livello della papilla dermica e parzialmente la matrice non era sufficiente. Questo ha portato il fatto che siccome la carenza di energia tipica dei bulbi delle donne in menopausa provocata dall'esagerato utilizzo del glicogeno a livello cellulare per via di questa enzima che si chiama glicogeno fosforilasi che si chiama PIGL la sigla l'acronimo allora siamo andati a valutare anche questo e abbiamo visto che nelle donne in assoluta età fertile quindi questa fascia d'età senza patologia dei capelli questo enzima veniva normalmente presente era normalmente presente non era sovraespresso mentre invece in queste donne oltre alla difficoltà dell'utilizzo e del lavoro recettoriale estrogenico c'era un'iperespressione di questo enzima quindi il glicogeno veniva troppo velocemente metabolizzato in glucosio perdendo l'energia del bulbo tant'è vero che in una fase sperimentale ma più per avvalorare lo studio che altro abbiamo valutato se questa terapia utile potesse essere quella di bloccare e di tenere il bulbo vivo di più bloccando per esempio l'enzima e in effetti clinicamente parlando queste donne hanno una risposta importante quindi in questa situazione clinica tutta ancora decisamente da 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 valorare di più con studi ulteriori come casistica però presumibilmente al di là del fatto che questo va bene lo stesso mantenendo un giusto livello di glicogeno un giusto livello di anagen perché non è certo la terapia estrogenica che può essere utile diventa importante nella terapia di questi soggetti grazie a tutti